Inzaghi conferma l'undici dell'andata. Nonostante lo stato grazia di Lukaku, reduce dalla doppietta in campionato contro il Sassuolo, Geko Sarain al fianco Lautaro Martinez. Stesso discorso a centrocampo, dove l'ex Cialanoglu avrà le chiavi della regia. Rientrano dall'inizio anche Onana, Darmian, Bastoni, Danfries e Barella. A Milano la notizia principale è recupero di Leao dopo il forfè di una settimana fa terzino portoghese e sarà schierato dall'inizio. In campo anche Messias e Krunic, assenti alla spezia. Niente da fare invece per Ben Nacer, finito sotto i ferri per un infortunio al ginocchio. Entusiasmo dei tifosi, tecnico dell'Inter allo stadio con venti di ritardo il grande entusiasmo dei tifosi interisti e alcune auto parcheggiate male hanno bloccato la strada al pullman della squadra nerazzurra fuori San Siro. Il mezzo ai giocatori a bordo è rimasto per diversi minuti nella strada antistante lo stadio Meazza, con l'intervento della polizia per far proseguire il bus, entrato nello stadio circa 20 di ritardo.